Test glicemici e visite cardiologiche, tanta adesione questa mattina a Benevento per l'iniziativa dedicata alla prevenzione promossa in occasione della giornata mondiale del diabete. Grazie alla collaborazione tra l'Associazione Diabetici Italia Meridionale e l'assessorato alle politiche sanitarie del Comune di Benevento e con i volontari della protezione civile. Lungo corso Garibaldi, lo stand per effettuare le visite grazie all'impegno dei dottori Alessandro Rosa, Carlo Rinaldi e Federica Provenzano. Per dare un chiaro segnale a tutti i cittadini che l'amministrazione c'è e quindi come assessorato alle politiche sanitarie abbiamo voluto dare un chiaro segnale e quindi iniziare a fare questa prima campagna di screening con esami vascolari, con visite diabetologiche e cardiologiche perché la patologia diabetica colpisce l'apparato cardiovascolare. E l'assessore Rosa annuncia anche prossime iniziative sempre in campo sanitario. Ho iniziato a dialogare sia con l'ordine dei medici che con la mia azienda, l'ospedale Sampio e con l'Asla e tutti si sono dimostrati propensi a dare una mano e a essere presenti sul territorio. Avere un'attenzione particolare agli ultimi, a tutti quelli che non possono permettersi neanche una visita, quindi noi ci siamo. La prevenzione scende in piazza anche se noi abbiamo fatto un anno di screening, soprattutto nel periodo Covid. In piena pandemia abbiamo fatto 1090 screening, in un'ora abbiamo fatto già 105 screening, quindi tantissimi. Come vede c'è tanta gente. Grazie. Grazie. Grazie.